Avete presentato un'interpellanza sull'orario dell'ufficio postale di Bratto? Sì, il nostro gruppo di minoranza di comune insieme, cioè io e Viviana Ferrari, abbiamo presentato un'interpellanza all'amministrazione comunale per avere informazioni rispetto a un problema che si è evidenziato nell'ultimo mese, vale a dire la riduzione dell'orario di apertura settimanale delle poste di Bratto d'Orga. Infatti è già ormai da un mese che i tempi di apertura sono stati ridotti. Prima erano tre giorni di apertura settimanali, ora improvvisamente da un mese a questa parte si siamo trovati con un'apertura di mattina solo del martedì, quindi una riduzione così improvvisa, senza motivazione e che lascia molti dubbi rispetto al futuro, alla sorte delle poste di Bratto d'Orga. Noi ci chiediamo preoccupati se questo significa, oltre alla contrazione pesantissima del servizio, se questo passo delle poste significa l'avvio verso la chiusura delle poste stesse. In questo modo ci sarebbe la scomparsa di un servizio essenziale, direi, sia per i locali, sia per i numerosi turisti che si affollano sia nella stagione invernale che in quella estiva, ma anche durante le altre stagioni, le nostre località. Quindi noi in questa interpellanza abbiamo chiesto all'amministrazione innanzitutto se è consapevole del problema che esiste e poi che cosa sta facendo per scongiurare questo pericolo? Noi riteniamo che le poste siano un presidio di servizi indispensabile per Bratto d'Orga e esserne privati sarebbe veramente una mancanza di un servizio fondamentale che non ci possiamo permettere. Tra l'altro già questa riduzione da tre a un giorno solo è di per sé stessa inaccettabile. Vogliamo capire che cosa c'è, che logica ci sta dietro e vogliamo far sì che l'amministrazione con tutti i suoi mezzi, le sue possibilità, contrasti questa pericolosa tendenza alla chiusura dei servizi anche se noi sappiamo che il trend, l'orientamento spesso è questo. Basta vedere quello che fa la nostra amministrazione stessa con l'intenzione di chiudere le scuole di Bratto. Ecco la replica del sindaco Mauro Pezzoli. Esattamente, le poste italiane già da novembre ci hanno invitato, hanno convocato tutti i sindaci interessati alla ristrutturazione sia della Valle di Magna, Valle Prembana e Valseriana. Castione in questo ambito è l'unico comune che ha due uffici postali aperti, gli altri comuni hanno un solo ufficio e tanti sono aperti a singhiozzo. Pertanto, nella trattativa che abbiamo intercorso è stata quella di potenziare l'ufficio di Castione con una seconda persona per migliorare il servizio. L'amministrazione delle poste si è impegnata a trovare un'ubicazione logistica migliore sul capoluogo per permettere un'affluenza migliore anche dal punto di vista dei parcheggi. L'ufficio di Bratto resta aperto per soddisfare le esigenze sia dei residenti di Bratto e d'Orga che hanno necessità, soprattutto i pensionati, di usufruire il servizio e sia per i turisti, però solo con un giorno alla settimana. Attualmente questo è quanto siamo riusciti ad ottenere dalle poste, ma in periodi di ristrutturazione aziendale, visto che ormai Poste Italiane è un'azienda privata, i discorsi della razionalizzazione dei servizi vengono comunque portati avanti.